E' scaduto ieri il termine entro il quale le società calcistiche siciliane avrebbero dovuto presentare domanda di ripescaggio alla FIGC regionale di cui è Presidente Santino Lopresti. E tra queste società figura anche il canicattì del Presidente Sandro Giglia, la quale con qualche giorno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del termine, ha provveduto ad inviare la relativa documentazione all'Organo federale con cui chiede di essere ripescata nel campionato di promozione per la stagione 2015-2016. Smentite quindi al momento le notizie stampa apparse stamane su un quotidiano, secondo le quali il canicattì è già stato ammesso al torneo di categoria superiore. Di certo c'è al momento che oggi pomeriggio si riunirà la Commissione per esaminare le richieste pervenute, dopodiché tutto passerà al vaglio del Consiglio federale, il quale nel corso della riunione del 6 agosto, quindi giovedì, dovrà valutare la gradatoria. Dalla federazione e soprattutto dal Presidente Santino Lopresti, come giusto che sia, non viene fatto trapalare nulla, anche se al momento verrebbe da pensare che ci sono buone probabilità che la domanda del canicattì venga esitata favorevolmente. Se ne saprà di più dopodomani, quando la FIGC comunicherà ufficialmente l'elenco delle squadre ripescate. Intanto, sabato 8 agosto alle 15, allo stadio Carlotta Bordonaro, inizia il ritiro precampionato del canicattì del Presidente Sandro Giglia. Agli ordini di mister Filippazzo si ritroveranno i portieri Calogero Roccaro, Sabatore Pullara e Giuseppe Farruggia, i difensori Calogero Bonfatto, Emanuele Di Bella, Valentino Suvac, Rosario Comparato e Giacomo Avanzato, i centrocapisti Pietro Cutaia, Giuseppe Restivo, Dario Paci, Gianluca Munna, Francesco Fanara, Giuseppe Sardone, Sainei Faiè, Giovanni Falsone e Giuseppe Giardina e gli attaccanti Gaspari Agozzino, Giuseppe Sant'Angelo, Davide Rocchi, Collei Bacari e Rosario Lalicata.